Il sindaco con il suo bonismo ha autorizzato una conferenza stampa a Cestrone Feole, però non sapeva che questa conferenza si sviluppava in un comizio elettorale vero e proprio. Un altro sgambetto che ci hanno fatto quelli dell'opposizione. Non sono riusciti a presentare la lista e si sono inventate altre cose. In quel comizio conferenza stampa hanno parlato di accordi, di come si amministra, di quello che dovevano fare per amministrare il comune di Rocca, per quello che dovevano fare per amministrare la fondazione. Poi hanno parlato pure di sostegno elettorale per tre persone della nostra lista, tra cui pure io, Roberta di Leva e Fausto Voccia. Vi posso garantire che sono tutte cazzate. Io non ho fatto accordi con nessuno, non li ho interpellati, non li voglio interpellare. I nostri consensi, i consensi di tutta la lista sono solamente frutto delle nostre azioni che abbiamo fatto, facciamo quotidianamente, non solo sotto le tornate elettorali che ne vengono. Cari signori, siamo arrivati veramente in basso con questi sgambetti.